dall'anno 2000 sulla televisione italiana domina un solo grande eroe che si veste di nero ma è umbro e gira in bicicletta il suo nome è Matteo sì ma quello è Aspoleto alla stazione di Alerona un altro grande supereroe gira in bicicletta anche lui si chiama Matteo una veste di bianco ed è un dottore lui si chiama Dot Matteo e combatte il male a forza di cicli di fisioterapia Dot Matteo il vero eroe stazionese giovedì ore 21 e 15 e in replica la domenica alle ore 17 e 45 solo su la fornace tv la fornace tv sforniamo grandi momenti di televisione